Non importa se è l'ultimo modello di auto o luccicante, il nero gomma è il tacco alto della macchina, la rende dignitosa e accattivante. LG Black Traction è il nero gomma che dura più a lungo, che dopo l'assorbimento rimane asciutto al tatto e resistente a detergenti aggressivi, e quando l'effetto decade non lascia residui e alloni bianchi. LG Black Traction è il tacco alto della tua macchina. LG Black Traction è il tacco alto della macchina.